L'Italia è un paese dove neanche il cuore di un bambino o la generosità di un filantropo possono battere la burocrazia. Lo dimostra la situazione paradossale del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, ufficialmente inaugurato nel dicembre 2008 con tanto di cerimonie e autorità regionali e comunali, ma in realtà mai entrato in funzione, o meglio entrato in funzione solo in parte. Dal momento che il primario Francesco Paolo Annecchino, chirurgo napoletano con 35 anni di esperienza in Lombardia, allo stato attuale non può utilizzare le due sale operatorie già pronte perché date indisponibilità ad altri reparti che ne sono sprovvisti e deve adattarsi a una terza sala meno all'avanguardia. In Puglia di cardiochirurgia pediatrica c'è solo la struttura del Giovanni XXIII e in base agli studi epidemiologici l'incidenza di cardiopatie congenite in Puglia è circa di 400, dovrebbe essere intorno ai 400 nati all'anno, di questi circa 250 richiedono l'intervento. Una situazione che nei giorni scorsi è stata denunciata da tre associazioni di genitori di bambini cardiopatici che lamentavano i disagi di dover portare i piccoli in strutture di altre regioni, soprattutto in Liguria. Il vero paradosso è che il reparto ha beneficiato tre anni fa di una donazione di 2 milioni di euro da parte del sultano dell'Oman per la sezione di emodinamica del reparto, cosa che invece di semplificare le cose le ha complicate. Il ritardo a mio parere ma a parere anche dell'amministrazione è stato provocato dalla lentezza burocratica delle gare di appalto dove appunto bisognava giudicare questo equipaggiamento estremamente sofisticato e anche costoso. Il direttore generale del Policlinico Vitangelo Dattoli, interpellato da Antena Sud, ha spiegato che l'inaugurazione del 2008 riguardava soltanto la cardiochirurgia, mentre per l'emodinamica ha confermato che la gara per le forniture si è conclusa e che gli ordini di cateteri e siringhe sono in fase di consegna. Il reparto dovrebbe essere pienamente operativo per il mese di giugno, burocrazia permettendo.